Il Nuttadesco cade con l'Ancona e stavolta non può nemmeno appellarsi alla sfortuna o alle occasioni mancate. La gara del Savini era complessa ma la squadra di evangelisti aveva classifica alla mano l'obbligo di vincerla. La perde perché crea pochissimo, quasi nulla in 94 minuti e questo è un segnale sinistro per il futuro. I 12 dal canto loro segnano e amministrano senza troppi patemi e adesso strano campionato. Sono a meno 2 dal gruppone a quota 24. L'innesto dal primo minuto di Infantino sembra dare discreti frutti all'inizio perché la punizione di Arrigoni trova il nuovo arrivato sul palo lontano ma Bellucci controlla. Amadori in profondità al minuto 19 chiama l'oliva all'intervento sul diagonale magari non potente ma angolato. L'opportunità clamorosa e i parole di casa se la ritrovano sui piedi due minuti più tardi. Infantino crea, persano finta, macciutti e murato e la stoccata di braccia è deviata sul palo esterno. E allora arriva la beffa al 29esimo. Ferri scommette troppo su un pallone che sembra destinato sul fondo ma in realtà spiana la strada da Amadori che batte l'oliva sul primo palo e manda avanti l'Ancona. Ed è un brutto colpo perché il notaresco fa fatica a reagire. Arrigoni manda a lato dalla distanza mentre dalla parte opposta Sarè colpisce in maniera imprecisa l'invito di Pecci. Nella ripresa ci si aspetterebbe la riscossa del notaresco. Entra Di Bartolo per Di Cairano ma le azioni pericolose le crea l'Ancona. Due volte con Martigniello tra il 49esimo e il 62esimo. Entrambe le conclusioni parate. In mezzo la sventola di Gulinatti che l'oliva controlla in qualche modo. Evangelisti cambia lo schieramento offensivo inserendo Carrozzo prima e Forcini poi ma le cose non migliorano. Lo stesso Forcini tenta la via della rete da corner. Bellucci si oppone mentre l'ultimo piazzato alto di Arrigoni certifica che la strada per la salvezza è lunghissima e servirebbe una sterzata decisa che con l'Ancona non c'è stata. Gli ultimi tre impegni del genone d'andata per il notaresco saranno complicatissimi. Serve piazzare qualche risultato ai Rossoblu per sperare in una seconda parte di stagione di tutt'altro tenore.